ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video della tutto tech questa sera vi volevamo rendere partecipi di un qualcosa che abbiamo fatto che ho fatto un pochettino in anticipo sì beh parecchio in anticipo più di un mese e sì ho fatto l'albero di natale non lo so sarà il periodo sarà che avevo voglia di sentire un po subito questo clima natalizio che a me piace spero anche a voi e quindi mi sono divertito a fare l'albero di natale e in più l'ho reso domotico in che modo ho utilizzato semplicemente una presa smart che dopo la sigla vi dirò come ho collegato tornando a noi ragazzi ho inserito nella presa smart una ciabatta alla quale poi ho collegato tutte le prese led dell'albero e quando do il comando la ciabatta fa partire la corrente e quindi mi accende l'albero e la ghirlanda ma bando alle ciance vi facciamo una dimostrazione al volo ricordatevi di silenziare il vostro prodotto perché adesso dirò quel nome e non vorrei che poi vi parta tutta una serie di roba domotica in casa vi ho avvertito è muto al dispositivo accendi albero come potete vedere mi accende l'albero mi accende la ghirlanda nella parte lì in alto ma ho detto sì questa è una roba abbastanza banale per chi ha un po dimestichezza con la domotica tant'è che le prese sono una delle prime cose che si vanno ad acquistare insieme alle lampadine piuttosto che ai sono off magari ad altre cosettine del genere quindi cosa ho fatto ho creato un qualcosa che chi ha dimestichezza con la domotica crea quotidianamente quindi se io voglio divertirmi posso fare quest'altra cosa posso creare delle routine ne ho creata uno in particolare che è carina per quando torno a casa e voglio un ambiente un po più natalizio quindi torniamo al nostro albero mettete il muto e gli albero buon natale stop quindi che cosa ho fatto sono entrato nel menu a tendina della app alexa sono andato nelle routine ho creato una nuova routine dicendo ogni qual volta io dirò il nome del dispositivo seguito da buon natale gli ho detto di collegarsi ad amazon music estrapolare da lì la canzone che avete appena sentito che ho dovuto tagliare per motivi di copyright e in più gli ho detto accendi le luci tramite la presa smart quindi casa intelligente questo video ci serviva solamente per farvi vedere soprattutto i nuovi che sono entrati nel club di domotica che può essere google o mini piuttosto che il nostro dispositivo amazon come è possibile divertirsi anche a natale con tutta questa serie di oggettini comunque vi mettiamo qui sotto in descrizione qualche link di qualche prodotto che può essere divertente utilizzare all'inizio quando si parte in questo magnifico mondo e speriamo che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo ciao ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.